Questa è la nostra piccola storia su Ultras. Avrò avuto nove anni quando per la prima volta andai allo stadio a vedere la squadra della mia città. Di calcio sapevo solo che ti favo per quella squadra e poco altro. Di politica sapevo solo che quando c'era l'antico Berlio in guerra alla tv dovevo stare zitto. Sennò volavo un compino o uno scapellotto. Se alla tv parlavano Andreotti, Fanfani o Almirante, invece volavo un compino se stavo ad ascoltarli. In casa le idee erano chiare e si comunicavano senza troppo approfondimento. Una trasmissione dei valori efficace, ancorché vagamente dolorosa. Allo stadio ricordo che sentì questo coro bellissimo. Non ne corsi subito la storia che si portava dietro. Mi piace ugualmente. E sono molti anni che questo coro è scomparso dalla curva a studi. Ma io lo so ancora a memoria. Faceva più o meno così. Sangue nei distinti, sangue nei popolari. Le abbiamo prese ma non siamo tristi. È ora di rifarsi, è ora di sparare. Il sangue dei compagni dobbiamo vendicare. Sangue nei distinti, sangue nel palazzetto. Noi siamo tutti quanti Ultraschetto. Questo coro degli Ultras della Reggiana negli anni settanta era intonato sull'aria dei morti di Reggio Emilia. E solo da adolescente, compresi che era figlio di una canzone popolare dedicata a dei morti veri. Morti veri non allo stadio ma in piazza. Per colpa della polizia fascista del governo Tambroni. Il 7 luglio del 1960. Dieci anni dopo aver sentito per la prima volta questo coro alla metà degli anni Ottanta era già cambiato tutto. L'epitaffio di uscita da quel periodo storico agli Ultras se lo scorrissero a vernice su un muro di Viale Montegrappa inneggiando a bombardamento americano sulla Libia per far fuori Gheddafi. Lo stesso Gheddafi che poi divenne azionista della Juventus. Lo stesso Gheddafi il cui figlio giocava per scherzo nel Perugia. Lo stesso Gheddafi socio dell'Ene. Lo stesso Gheddafi che adesso abbiamo ripreso a bombardare. così per sport così per sport e per sport per sport per sport per sport Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.